Questa mattina all'alba i vigili del fuoco sono intervenuti in località Larici di Asiago in provincia di Vicenza, lungo la strada provinciale che da Camporovere va verso Trento per il rovesciamento di un auto articolato carico di legname che ha cercato di evitare un cervo. Ferito l'autista. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza in mezzo mentre l'autista, riuscito a venire fuori da solo, è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Sono ora in corso tutte le operazioni di recupero del legname su un altro mezzo per poi procedere al raddrizzamento dell'auto articolato con una gru del soccorso stradale.